...per caso di spinning a lungo, facendomi magari sentire un po' il rumore del fattore fino alla fine, cioè l'obiettivo è sfibrare il rischio, perché credo che a molti altri percepisci di tanto, se ne pensi davanti, significerebbe probabilmente scoprire delle carte, ma statene lì però alla fine, se ne hai per stare lì dietro. Io stavo notando che il mio investimento è fallito, io penso che...